Continuiamo il nostro tour di itinerari agroalimentari d'Italia, delle regioni italiane, grazie sempre, siete sempre più numerosi per il nostro magazine online, consultabile sul nostro portale www.gilopaganditalia.com o naturalmente sul quotidiano online www.oltrefreepress.com E' ancora una nuova regione, siamo appena arrivati qui a B2013, siamo in Friuli Venezia Giulia e chi troviamo qui? Due gentili madame e madame in Friuli Venezia Giulia che vanno a presentarvi il Biker Fest Intanto prima di presentarvi il Biker Fest presentiamo questa testimonial, come ti chiami? Francesca Ma a te piacciono le moto? Parecchio Parecchio? Sì sì Prima volta che fai la testimonia al Biker Fest? Sì Perfettissimo A questo punto in bocca al lupo per questa bellissima iniziativa e vado subito a presentare questo evento con una delle responsabili Parlo con? Margherita Margherita, benvenuta ai itinerari agroalimentari d'Italia Benvenuto a te Grazie, noi è una regione che apprezziamo moltissimo, ci verremo a trovarvi al più presto Presentiamo questo Biker Fest all'amici dell'ascolto Margherita? Ma diciamo che la Biker Fest è un motoraduno che giunge alla 27esima edizione, viene fatta all'ignano sabbia d'oro, un motoraduno a livello europeo che porta insomma in Friuli un sacco di gente, arriviamo sulle 15.000-20.000 persone Per informazioni Margherita, su Biker Fest c'è un sito dove i nostri amici possono sintonizzarsi? C'è il sito della Biker Fest proprio, basta digitare Biker Fest e vengono fuori tutti i link necessari E noi proseguiamo dopo Biker Fest a scoprire altri itinerari eventi del Friuli Minerzial Giulia E naturalmente la prossima puntata di itinerari agroalimentari d'Italia Ciao a Margherita e ciao a Francesca